La vita non si fa in lavoratorio, si fa nella realtà. E la realtà che vivono oggi le famiglie è complessa e carica di ansie. Da queste Francesco parte nella sua catechesi, a iniziare dalla situazione che vivono le coppie separate. Tante volte il figlio è presso come ostaggio. Il papà gli parla male della mamma e la mamma gli parla male del papà e si fa tanto male. Voi siate separati per tante difficoltà emotive. La vita vi ha dato questa prova. Ma che i figli non siano quelli che portino il pesso di questa separazione. È molto difficile, ma potete farlo. C'è poi la questione del conciliare lavoro e affetti. È difficile educare per i genitori che vedono i figli solo la sera quando ritornano a casa stanchi di lavorare. Quelli che hanno la fortuna di avere lavoro. Molti genitori sono sequestrati dal lavoro e da altre preoccupazioni. E si trovano come paralizzati dal timore di sbagliare. La ricetta migliore, suggerisce Francesco, è quella dell'amore, della tenerezza e della pazienza. Questa è una regola sapiente. Non comandare in una maniera brutta, per non scoraggiare i figli. I figli devono crescere senza scoraggiarsi, passo a passo. Ambito critico è la scuola, dove padri e madri delegano ai cosiddetti esperti il proprio ruolo educativo. E dove, a differenza del passato, i rapporti tra genitori e insegnanti sono sempre più segnati da tensioni e sfiducia reciproca. E qui c'è spazio per un aneddoto personale di quando il piccolo Bergoglio, in quarta elementare, rispose male a una maestra che fece venire a scuola, mamma regina. E mia mamma, davanti alla maestra, mi ha spiegato che quello che io ho fatto era una cosa brutta, che non si doveva fare, ma con tanta dolcezza l'ha fatta la mamma e mi ha chiesto di chiedere perdono davanti a lei, alla maestra. Io l'ho fatto e poi sono rimasto contento, perché è finita bene la storia. Ma quello era il primo capitolo. Quando sono tornato a casa, incominciò il secondo capitolo. Immaginatevi voi, eh. Oggi la maestra fa una cosa del genere. Il giorno dopo ho due genitori, uno dei due, a rimproverare la maestra.